Benvenuti nel mondo degli orologi Konstantin Chikin. Konstantin Chikin è un rinomato orologiaio russo che ha fondato il suo marchio omonimo nel 2003. La sua passione e la sua creatività lo hanno portato a creare orologi innovativi, con complicazioni complesse e funzionalità uniche. Uno dei modelli più famosi di Konstantin Chikin è il Joker, un orologio a carica di con un quadrante che rappresenta il viso del Joker, celebre personaggio dei fumetti. La combinazione tra gli occhi, i contatori di ore e minuti, e la lingua, fasi lunari, danno vita al quadrante facendosi che, grazie al loro movimento, il volto rappresentato cambi costantemente espressione. Questo orologio è diventato un'icona tra gli orologi stravaganti, ed è stato apprezzato anche dal grande pubblico. Oltre al Joker, Konstantin Chikin ha creato molti altri orologi di lusso unici, tra cui il Lunakod, ispirato al veicolo lunare sovietico, e il Carpe Diem, un orologio con una complicazione che permette di visualizzare il giorno della settimana attraverso i simboli astronomici. Questi orologi sono stati creati con passione e con una grande attenzione ai dettagli, rendendoli dei veri capolavori dell'orologeria di lusso. Konstantin Chikin è anche noto per la sua abilità nell'utilizzo di materiali preziosi come l'oro, il platino e i diamanti per creare orologi di lusso esclusivi. Ogni orologio Konstantin Chikin è realizzato a mano in Russia utilizzando le tecniche tradizionali dell'orologeria svizzera, ma con un tocco di originalità e creatività che rende ogni orologio unico. Questi materiali pregiati, uniti alla maestria artigianale di Chikin, rendono ogni orologio Konstantin Chikin un vero e proprio tesoro da collezionare.